Quanto costa essere onesti? Se lo chiedono Salvo Ficarra e Valentino Picone dal 19 gennaio al cinema con L'Ora Legale, quinta pellicola firmata alla regia dal duo comico palermitano e presentata quest'oggi al Metropolitan di Napoli. Un film corale che vede l'immaginario paese di Pietrammare in quel che nella realtà e termini merese affrontare con novità le elezioni per scegliere il sindaco. Un paese siciliano, prototipo però di tutti i paesi di Italia con una scansonata ma profonda riflessione sul cambiamento. Oltre 600 le sale in cui verrà distribuita la pellicola, ben 100 attori parlanti e più di un migliaio le comparse. Quanto costa essere onesti? Costa un po' a tutti, perché tutti abbiamo una piccola dose di illegalità quotidiana a cui ci aggrappiamo, quindi sicuramente costa. Per esempio la mia parte illegale è Ficarra per esempio, io mi sborto lui perché è la parte illegale del duo, però ognuno di noi poi dentro ce l'ha. Ognuno si può rivedere in quello che vuole. Più che ai politici in questo caso è una commedia sul costume italiano, sul popolo, politico. Il politico c'entra in quanto è espressione della nostra volontà. Riferimento pure al petrolchimico in quella terra che è Termini può richiamare anche un poco a quello che ha vissuto la città in altri ambiti industriali. Il petrolchimico, c'è sempre un petrolchimico dentro ognuno di noi, quindi potrebbe essere Priolo, potrebbe essere Taranto, potrebbe essere qualunque posto dove c'è un petrolchimico non a norma, perché abbiamo scoperto che ci sono pure le acciaierie, i petrolchimici a norma, li abbiamo scoperti che ci sono. Allora venite a vedere il film nelle sale, altrimenti veniamo noi a casa forse a pigiarvi uno per uno. È una minaccia così. È una minaccia. Allora se ve lo volete vedere ve lo vedete, se non volete vedere niente. Così è disfattista. Ciao!